Ieri sera, a seguito di un incidente stradale, è deceduto Luciano Lana, un operaio di 61 anni di Mira. L'uomo, alla guida di una Volkswagen, è uscito di strada ad Olo in via Marco Polo, sembra in maniera autonoma. Nell'impatto, l'auto ha sfondato una ringhiera ed è finita rovesciata in un cortile privato sotto il piano stradale. Nonostante i tempestivi soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare il decesso dell'operaio. I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira nella frazione di San Bruson e hanno messo in sicurezza la Volkswagen. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.